Sconcerto, disappunto, indignazione. Sono parole ricorrenti nei commenti sul social network alla notizia sui collaboratori esterni dell'Ars. Un nemine esercito di consulenti che costano alle casse di mamma regione circa un milione e mezzo di euro l'anno, che in un periodo di crisi di decantrata spending review suona come una beffa. Per la serie siamo alle solite, si predica bene ma si razzola male, compensi che oscillano fra i due di 3.000 euro l'ordi mensili a beneficiare di addette alla segreteria, portavoce, addetti stampa e quant'altro, e innanzitutto il presidente dell'Ars, Ardizzone. Per lui sei collaboratori, esperti esterni anche per i due vicepresidenti Venturino e Pogliese, sette in tutto, fanno ancora meglio i deputati questori, le loro segreterie sono affollate, il lepprimato aspetta alle parlamentare del megafono Oddo, che in controtendenza al credo cocettiano ha affidato ben otto incarichi. Ma quello che fa aggravare mal di pancia di tanti cittadini tartassati dalle prese con il quotidiano sopravvivere è che anche l'ex presidente dell'Assemblea, Cascio, ha due collaboratori pagati dalla regione, costo 5.000 euro al mese. È previsto dalla normativa, ma si tratta pur sempre di un privilegio superfluo di quelli che fa salire la pressione arteriosa ai siciliani. Ma c'è di più, anziché usare la forbice si usa il foraggio. Infatti nel bilancio interno di previsione per il 2014, l'Ars ha stanziato per il personale addetto alle segreterie particolari una cifra di circa 3 milioni di euro. Chi paga? Sempre noi. Sono i costi della politica, quei costi che resistono al di là delle chiacchiere, degli spotti propagandistici e dei buoni propositi mediatici.